La menzogna non ha mai fatto parte del mio DNA, anzi non è nel mio DNA, per cui quando qualcuno mi dice come va, io rispondo realmente se va bene, dico benissimo, se va così e così, insomma potrebbe andare meglio, invece sono circondato da persone alle quali le cose vanno eternamente sempre bene, come va? Oh perfettamente, ho aumentato il mio fatturato, ho fatto qui, ho fatto là, eccetera, eccetera. Ma che dire, io sono un imbecille perché amo la sincerità e la franchezza, gli altri invece amano bluffare e in questa partita di poker che è la vita oppure il business quotidiano, il bluff molto spesso, anzi troppo spesso, anzi sempre più spesso funziona e come se funziona. Grazie a tutti.